Resta alta l'attenzione sul servizio di lavanderia dell'Asli di Teramo. A denunciare condizioni peggiorative per i 12 lavoratori nel passaggio avvenuto a fine aprile dal vecchio al nuovo gestore sono i sindacati che sono tornati a lanciare un nuovo allarme su inquadramento del personale, orario di lavoro, periodo di prove e altri aspetti. Per questi motivi è stato proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori del servizio Guardaroba. I lavoratori si vedono arretrare di due livelli di inquadramento con una perdita salariale importante e sono lavoratori qualificati che da tanto tempo svolgono questo lavoro. L'altro problema è l'inserimento di un patto di prova nel loro contratto di lavoro che secondo noi è illegittimo. L'azienda Hospital Service è irremovibile. Noi rispetto a questo punto sulla quale l'Asli può pure decidere che non gli interessa ma nel momento in cui questo impatta con la qualità del servizio la cosa interessa perché interessa i cittadini, interessa i lavoratori e interessa le organizzazioni sindacali. Quindi il dottor Di Giosia deve spiegare dal suo punto di vista come intende far funzionare il servizio Guardaroba. Le scelte del nuovo operatore per i sindacati sarebbero in evidente contrasto con la clausa sociale prevista dal contratto nazionale delle lavanderie industriali, nonché della normativa generale che regola la materia. Dobbiamo evitare che si crei questa spirale imitativa per cui si vincono le gare di appalto pubbliche con ribassi importanti costruiti sul mancato rispetto delle clausole contrattuali. Questo penso che sia una tematica oggi al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica. Tutti ne parlano, tutti dicono che la vogliono contrastare ma scopriamo che purtroppo poi di fatto così non è. Una problematica che se non gestita potrebbe portare a ripercussioni anche sui cittadini. Assolutamente sì, più che altro perché potrebbe generare anche confusione per quanto riguarda la tipologia delle divise e l'indosso da parte del personale e dall'altra perché comunque abbiamo del personale che sì è stato riassorbito ma a quali condizioni? Se non ci saranno delle risposte? Se non ci saranno delle risposte azioneremo, già uno stato di agitazione è stato proclamato e azioneremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per tutelare i lavoratori soprattutto ma per garantire un servizio, una continuità di un servizio.